Un saluto per la pace, Papa, un saluto per la pace, grazie Papa, grazie, grazie, il Papa ha dato un saluto per la pace, per il mondo, questa sera la partita della pace di tutti quanti, di tutte le persone, un'emozione grande, il Papa è un grande, grande corazonno. Grazie.